continuiamo con la parte 2 perché ho quasi la memoria piena allora questa isha qua in condizioni pietose come vi ho detto l'ho presa da una venditrice su subito questa flora qua magic winks mancante solo di ali l'ho presa da una venditrice su vinted a 22 euro più spedizione ha ancora i ciuffetti lattati io li ho un po sistemati e ha i capelli super morbidi poi qua abbiamo un'altra musa sempre presa dalla stessa venditrice di aisha nudaccia povera ha i capelli in condizioni molto più pietose ma vanno bene lo stesso poi c'è questa blu qua mancante di una gamba che adesso ve la faccio vedere sempre presa da una venditrice su facebook l'otto stava poco e quindi l'ho preso poi c'era il sacchettino di un omaggio poi qua dentro c'è allora sky del film magica avventura ho anche sky della serie di queste qua grosse però ce l'ho da un'altra parte che io lo trovo poi c'è blu che non canta perché gli mancano le pile però quando gliele metterò lei canterà sicuramente e vediamo perché dovrebbe starci la corona ma qua non più sta vabbè ve la faccio vedere che rialzo una un'altra un'altra